Malattie della rinofaringe. La rinofaringe ha una funzione respiratoria, fonatoria e immunitaria. Nei primi anni abbiamo proprio una tonsilla faringea che però si atrofizza entro i 15 anni. I sintomi legati alle malattie della rinofaringe sono di solito proprio l'ostruzione respiratoria, la rinorrea, l'epistassi e modificazioni del timbro vocale, la rinofonia chiusa soprattutto, quella che trasforma la M e la N in B e D. Quindi, ostruzione respiratoria, rinorrea, epistassi e modificazioni del timbro vocale. I sintomi siano per uno stretto rapporto tra gli osti tubarici e il rinofaringe, oltre che con le coane nasali. Peraltro questo giustifica anche l'insorgenza di fenomeni flogistici dell'orecchio medio. All'esame obiettivo ovviamente il rinofaringe lo valutiamo con fibre ottiche rigide o flessibili per un'ispezione della regione coanale, della parete posteriore del palato molle e la volta del palato, nonché le pareti laterali e infine la parete posteriore del rinofaringe, quindi fibre ottiche. La diagnostica strumentale consta delle solite rinomanometria o rinomanometria acustica, anzi rinometria acustica, e lo studio strumentale del sonno, quindi la polisonografia eccetera per diagnosi di OSAS in caso di ipertrofia adenoidea. Le indagini radiologiche sono le solite tacche risonanza magnetica per valutare estensioni e rapporti neoplastiche eventuali. Parliamo subito delle patologie che sono innanzitutto divisibili in patologie flogistiche e patologie tumorali. Quelle che ci interessano intanto sono quelle flogistiche. Cominciamo con la adenoidite acuta e a seguire avremo l'ipertrofia delle adenoidi. L'adenoidite acuta è, come suggerisce il nome, una infiammazione acuta della tonsilla faringea che si verifica in età pediatrica a causa di virus, soprattutto adenovirus e rinovirus, oppure di batteri. I sintomi sono iperpiressia, ostruzione respiratoria nasale con roncopatia e apnee ostruttive, quindi sintomi che abbiamo detto prima, rinorrea, difficoltà di suzione nel lattante, quindi iperpiressia, ostruzione, rinorrea, ostruzione respiratoria, rinorrea, difficoltà di suzione. All'esame obiettivo, anche qui, fibre ottiche che evidenziano la localizzazione adenoide, quindi adenoidi ipertrofiche, iperemiche, che hanno anche una secrezione. Poi la terapia, terapia che è a base di farmaci sintomatici, nelle forme virali come FANS, antinfiammatori, antipiretici, analgesici, gli antibiotici come l'amoxi e l'acido clavulanico per almeno 5 giorni nel caso di forme batteriche. Le complicanze sono l'interessamento auricolare, l'adenopatia laterocervicale, a interessamento auricolare si intende ottite acuta, sierosa o purulenta, dicevo adenopatia laterocervicale, quindi flogosi di ariodigestive, quindi faringiti, tonsilliti, trachiditi, bronchiti, polmoniti. L'adenoflemmone retrofaringeo, che è una rara patologia dell'attante ed è data proprio da un interessamento dell'infonodo di Gillette nella parte alta dello spazio retrofaringeo, quindi può aprirsi in faringe con conseguenze mortali e causa una difficoltà all'allattamento. Infine abbiamo i flemmoni diffusi nello spazio retrofaringeo nei bambini e negli adulti per fatti traumatici, quindi si formano questi flemmoni con germi anaerobi che nell'adulto possono anche essere ascrivibili a un processo tubercolare, quindi si parla di adenite tubercolare. Quindi complicanze, ripetiamo, dell'adenoidite acuta sono interessamento auricolare, quindi l'ottite, l'adenopatia laterocervicale e tutti i processi che abbiamo visto, trachiditi eccetera, l'adenoflemmone retrofaringeo dell'attante e i flemmoni diffusi dell'adulto nello spazio retrofaringeo. Detto questo parliamo dell'ipertrofia adenoidea, che è un aumento cronico di volume della tonsilla faringea, questo è indicativo di una sindrome ostruttiva respiratoria, che è il principale sintomo dell'ipertrofia adenoidea. Tale malattia si verifica soprattutto in età pediatrica e è una favorita dall'umido, dal freddo e sostenuta da fattori flogistici acuti, ricorrenti o locali in soggetti che hanno una predisposizione costituzionale, che significa ipertrofia delle adenoidi, perché magari hanno una necessità di produrre IG, perché il sistema immunitario non è molto efficiente. L'anatomia patologica di lesione è una stupidaggine, abbiamo un tessuto vegetante che occupa il cavo rinofaringeo, però è indicativa di quello che è l'esame obiettivo, cioè all'endoscopia con fibre ottiche, questo aggettamento del tessuto nel lume, quindi questa ipertrofia adenoidea, può essere divisa in quattro gradi. In primo grado, quando c'è una modesta quantità di tessuto linfatico sulla volta rinofaringea, il secondo grado quando abbiamo una ostruzione della parte superiore delle quane, terzo grado quando abbiamo un'ostruzione di due terzi delle quane, quarto grado quando sono ostruite del tutto, quindi primo grado modesta quantità di tessuto, secondo grado ostruzione superiore, terzo grado due terzi, quarto grado del tutto. La terapia è molto semplice, si fa una adenoidectomia in narcosi per via orale oppure endoscopica transnasale, ad ogni modo questa si fa solo se abbiamo una significativa e prolungata ostruzione respiratoria da ipertrofia, se abbiamo anche un otito e possono essere piazzati dei tubi per ventilazione. Spesso viene ad essere associata anche l'ipertrofia tonsillare e in questo caso si fa una adenotonsillectomia, quindi si tolgono le adenoidectomia e proprio le tonsille. Se la malattia persiste in età adulta si fa una biopsia perché bisogna escludere la neoplasia. Quali sono le complicanze? Ovviamente se l'ostruzione è continuativa parliamo di una vera e propria sindrome adenoidea, quindi riniti ricorrenti, otiti ricorrenti, roncopatia e osas, la facces adenoidea che è come soggetto a bocca aperta, malocclusione dentale, viso affilato, labbra superiori sollevate, palato ogivale, torace carenato, malocclusione dentale abbiamo detta, patologie flogistiche ricorrenti ario digestive che abbiamo detto. Un'altra complicanza oltre la sindrome adenoidea è la micropoliadenopatia latero-cervicale, ma ci interessa poco. Soprattutto ricordiamo la sindrome adenoidea, riniti e otiti ricorrenti, la facces adenoidea, la roncopatia, le osas con palato ogivale e pectus carenatum. Con questo concludiamo le patologie flogistiche del rinofaringe e passiamo subito ai tumori del rinofaringe che possono essere anche qui benigni o maligni. Il benigni ci interessa solo un tumore, il fibroangioma sanguinante della pubertà maschile, fibroangioma sanguinante della pubertà maschile tra 10 e 20 anni. Predomina quindi la componente vascolare, come possiamo immaginare. Quindi i traumi lievi possono dare emorragie pazzesche che non si arrestano. Il lento accrescimento, la massa, provoca un'espansione verso le fosse nasali e il rinofaringe. La stadiazione è questa, molto semplice. Stadio 1 è al rinofaringe, stadio 2 arriva al naso o allo sfenoide, stadio 3 arriva proprio diffusamente nel viso, quindi corpo mascellare, letmoide, fossa infratemporale, pterigopalatina, cavità orbitaria, le guance. Quindi stadio 4 è alla cavità cranica, quindi stadio 1 è limitato a rinofaringe, stadio 2 arriva allo sfenoide oppure alle cavità nasale, stadio 3 mascellare, le ossa lacrimali, la fossa interorbitaria, l'etmoide, la fossa pterigopalatina, il ganglio sfeno cervicale e poi infine un processo diffuso alla cavità cranica. I sintomi sono l'ostruzione respiratoria ovviamente e l'emorragia, ma lo abbiamo detto, diagnosi con endoscopia, tu gli fai l'attacca, la risonanza magnetica, l'angiografia, poi vai a fare l'exeresi. Parliamo adesso di tumori maligni, i cui fattori di rischio sono due, l'infezione da EBV, da Epstein-Barr, oppure le abitudini alimentari. Quindi sono tumori che derivano dall'epiterio di rivestimento, dal tessuto linforeticolare e spesso sono molto indifferenziati, quindi si risolvono bene, rispondono bene alla radio e alla chemioterapia. E i carcinomi quali sono? Abbiamo il K squamo, quindi il primo tipo WHO, il K non keratinizzante, che è parzialmente differenziato, tipo 2 WHO, il carcinoma squamoso non keratinizzante indifferenziato, che è di tipo 3 WHO, quindi è non keratinizzante, squamoso keratinizzante, squamoso basaloide, poi abbiamo l'adenocarcinoma papillare, il K adenoidocistico e il K mucoepidermoide, quindi insomma K squamosi, keratinizzanti, non keratinizzanti e basalioidi, poi adeno K, cistico, adenoidocistico e mucoepidermoide. Comunque il senso è che il tipo 2 e il tipo 3 dei K non keratinizzanti parzialmente o indifferenziati hanno spesso un infiltrato plasma cellulare linfocitario. Peraltro possono essere questi tumori divisi in voluminosi aggregati e si parla di K di tipo rego o in piccoli nidi, quindi K tipo schminche. Abbiamo anche forme tumorali non carcinomatose, quindi linfoma di Holschkin, il cordoma, che è praticamente da un residuo della notocorda, il sarcoma, l'angiosarcoma, il craniofaringioma di Erdain, che deriva da residui del primitivo canale craniofaringeo. Sintomi sono rinofaringe nasali, quindi l'ostruzione respiratoria, la rinorrea mucopurulenta ed ematica. Poi abbiamo anche sintomi auricolari, quindi lipoacusia monolaterale per una otite media effusiva cronica. Infine versamento catarrale nell'orecchio, che è responsabile di questa ipoacusia, di questa otite. Il tumore si sviluppa in cavità ampia, quindi può rimanere purtroppo per molto tempo asintomatico, quando lo diviene magari da come sintomo iniziale la adenopatia laterocervicale, che significa metastasi. Soprattutto si becca il linfonodo di Krauss e Cuneo, che è in rapporto con il glossofaringio, il vago e l'accessorio, e quindi ti darà, in seguito a ipertrofia neoplastica, un infiltratto di tutti questi nervi, con una sindrome paralitica dei medesimi. Quindi purtroppo questo tumore dà un'invasione della fossa apterigopalatina, anche al gangliosfenopalatino, quindi può dare dei dolori profondi, continui. Se può interessare la metà anteriore della volta basale cranica, l'interessamento dell'alloggia a retrostiloidea, quindi dare luogo a una sintomatologia infiltrativa su carotide interna giugulare, il nonno, il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, nervo cranico, il simpatico cervicare. Vabbè, i sintomi sono fondamentalmente in questi casi la triade di Trotter, quindi noi abbiamo una stenosi tubarica, l'invasione del palato molle, addirittura arriviamo anche alla nevralgia della terza branca del trigemino, quindi stenosi tubarica, nevralgia della terza branca del trigemino e invasione del palato molle. L'invasione endocranica provoca proprio una cefalea gravativa, un aumento della pressione endocranica, con papilla da stasi, bradicardia, vomito, può arrivare all'interessare l'angolo petrosfenoidale in vicinanza all'apice della roca petrosa che contiene il ganglio di Gasser, quindi anche i rami del trigemino, può arrivare all'oculo motore, il trocleare, l'abducente, l'ottico, queste sono tutte sindrome paralitiche associate anteriori, insomma è un tumore che colpisce un po' tutto quello che c'è lì, ci sono i nervi, ci sono i vasi, quindi è semplice, alla fine è più semplice di quello che sembra. L'esame obiettivo si basa sull'endoscopia nasale, sull'otoscopia, però a diagnosi tanto la fai per queste cose sempre con la TAC e correi di tutto con la biopsia e correi di tutto con la TAC e la risonanza magnetica. Poi puoi ricercare gli anticorpi per le BV, anti-antigeni precoci e anti-antigeni di capside virale. La stadiazione TNM consta soprattutto dell'N, l'N1 vuol dire metastasi monolaterali, linfonodi cervicali, oppure mono o bilaterali nei retrofaringi, però dimensioni inferiori a 6 cm. L'N2, quando invece sono più linfonodi, in uno più linfonodi però bilateralmente a livello cervicale, anche qui sempre meno di 6 cm, N3 se sono bilaterali, sempre a livello cervicale, però maggiori di 6 cm oppure estesi a una fossa alla fossa claveare. La prognosi del carcinome tipo 2 e tipo 3, come dicevamo, è buona perché sono radiosensibili e quindi hanno un alto tasso di guarigione.